Briogeo combina il meglio della natura per curare e migliorare l'aspetto dei tuoi capelli. Tutti i prodotti del brand sono progettati per proteggere, idratare e purificare con delicatezza il cuoio capelluto. Le formulazioni, a base di vitamine, antiossidanti e oli naturali, sono il mix perfetto per ogni lunghezza e consistenza di capelli. I cofanetti Regalo Briogeo contengono cosmetici per la chioma eco-etici e naturali, sostengono la bellezza sostenibile. Offrono soluzioni ideali per ogni tipo di capello e sono il regalo perfetto per chi rispetta la natura e l'ambiente. Scopriamoli insieme. Cofanetto Briogeo Soluzioni per il prurit e la secchezza del cuoio capelluto È un set ricco e completo, contiene 5 prodotti pluripremiati della linea Briogeo Scale Previval. Le formulazioni, appositamente studiate per nutrire e trattare in modo naturale il cuoio capelluto, tengono a bada i capelli grassi, il prurit e la forfora. Tutti i prodotti sono privi di solfati, siliconi, ftalati, parabeni, dee o coloranti artificiali contiene, shampoo Scale Previval micro. Esfoliante per il cuoio capelluto al carbone più olio di cocco Maschera Scale Previval idratante e rinfrescante per il cuoio capelluto al carbone e titri Trattamento per il cuoio capelluto Scale Previval al carbone più titri Shampoo secco Scale Previval al carbone più biotina Spazzola per massaggio stimolante U3 Cofanetto Briogeo Don't Disper Repair Set di trattamenti rinforzanti e riparatori Il set, pensato per trasformare e rigenerare i capelli secchi e danneggiati, contiene il popolare duo shampoo, balsamo, Briogeo in formato Standard, da utilizzare in combo con la maschera e l'olio rinforzante presenti nel cofanetto Il 90% degli ingredienti è di origine naturale Include, Don't Disper, Repair Shampoo superidratante Don't Disper, Repair Balsamo superidratante Don't Disper, Repair Maschera rivitalizzante in profondità Don't Disper, Repair Olio rinforzante, 7 ml Don't Disper, Repair Idratante intensivo con proteine dell'acqua di riso, 2x11,8 ml Cofanetto Briogeo Don't Disper, Repair Kit formato viaggio Desideri capelli luminosi e sani anche in viaggio? Il mini kit Briogeo contiene tutto il necessario per curare la chioma secca e sfibrata L'olio di mandorle, l'olio di rosa canina, l'estratto di alghe, le ceramidi e le vitamine del gruppo B, fortificano e riparano ogni consistenza di capello Cofanetto Briogeo Curl Carisma Set di prodotti mini per capelli definiti e idratati È l'idea perfetta per provare ben 4 prodotti interamente dedicati ai capelli ricci di Briogeo Gli aminoacidi del riso e i fermenti di pomodoro, sigillano le cuticole e favoriscono la definizione dei riccioli, che appaiono in breve tempo più morbidi e uniformi Contiene uno shampoo Briogeo, un rivitalizzante, una maschera per capelli, una crema per capelli Cofanetto Briogeo Latrus Par Excellence Per capelli e cuoio capelluto Il set regalo contiene 3 maschere create per nutrire, rafforzare e idratare sia i capelli, che il cuoio capelluto I prodotti inclusi nel Cofanetto sono clinicamente testati, in formato da viaggio Troverai anche il trattamento rinforzante all'acqua di riso e al regalo Include, Don't Dispare, Repair, Deep Conditioning Mask Briogeo Superfoods Avocado più Kiwi Mega Moisture Mask Scalp Revival Charcoal più T3 Cooling Hydration Scalp Mask Don't Dispare, Repair, Mega Strength più Rice Water Protein più Moisture Strengthening Treatment 2 pacchette Cofanetti Regalo Briogeo Superfoods con Mango e Ciliegia Le formulazioni dei Cofanetti Superfoods si ispirano ai centrifugati naturali, ricchi di principi attivi nutrienti Il duo, composto da shampoo e trattamento rivitalizzante, include minerali, vitamine ed enzimi di papaya che regolano la produzione di sebo e sostengono la salute dei capelli Contiene, Superfoods Shampoo equilibrante al mango e alla ciliegia Superfoods rivitalizzante equilibrante al mango e alla ciliegia Cofanetto Briogeo Superfoods con banana e cocco per capelli secchi Il kit contiene tutto il necessario per detergere il cuoio capelluto in modo naturale e delicato Entrambi i prodotti sono privi di solfati e contengono un ricco mix di vitamine, minerali e sostanze nutritive pensato per rigenerare i capelli disidratati e spenti Include, shampoo nutriente alla banana e al cocco Briogeo Superfoods Balsamo rivitalizzante ultra nutriente alla banana e al cocco Briogeo Superfoods Cofanetto Briogeo ha vantaggi e purificante più riparatore per capelli Non lasciarti sfuggire due dei prodotti più amati del brand per mantenere alta la salute dei capelli e del cuoio capelluto Shampoo e maschera con il 90% di ingredienti naturali, perfetti anche per i vegani, con risultati scientificamente e clinicamente provati Contiene, scale previval charcoal più coconut oil micro exfoliating shampoo don't despair, repair Deep conditioning mask coffanetto Briogeo Superfoods con mela, maccia e kale Il set è pensato in particolar modo per i capelli spenti e assetati, con necessità di nutrimento e idratazione Il mix di vitamine e minerali fortifica il cuoio capelluto in modo naturale, fornendo tutti gli elementi indispensabili per migliorare e curare la salute della chioma Contiene, shampoo rinvigorente e ultranutriente con maccia e mela Balsamo rinvigorente e ultranutriente con kale e mela dove acquistare I Cofanetti Regalo Briogeo I set Briogeo sono disponibili negli e-commerce e negli stores convenzionati del brand, compreso Saffora in questa pagina dedicata Cerchi l'idea regalo perfetta per i tuoi amici appassionati di hairstelling e sostenitori della cosmesi ecosostenibile Non lasciarti sfuggire le offerte Briogeo, buone e convenienti, grazie al marchio sempre e attento e rispettoso dell'ambiente che ci circonda Quale Cofanetto ti ispira di più? Che tipo di capelli hai? Potrebbe interessarti anche Hola Plex Moroccano Il Gesù, tutti i Cofanetti per la cura dei capelli Natale Cofanetti GH di Natale Tutti chi tregalo capelli da non perdere laser capelli Come funziona? Risultati e top 3 dei migliori Come funziona? Risultati e top 3 dei migliori